La mia Matilda è così coccolona è l'adozione di una cucciola di circa 10 mesi Matilda è un cane che può andare d'accordo con gli altri cani può andare d'accordo con i gatti va discretamente al guinzaglio anche con i bambini è capace di stare è un cane che può dare grandi soddisfazioni Allora Matilda, affare fatto? Riempiamo la vita di gioia ad una bella famiglia?